Sono 11 al Via, 2.80 per il numero 2, Licius Rivarco, Pierfrancesco Mauro, a 4, Laurel di Poggio, 5.38 Leonardo Hans, 6.70 Live, Oc Clodelet. Stacco della macchina. A largo e veloce Live, Oc Clodelet, che assume l'iniziativa nei confronti di Laurel di Poggio, a largo Leida. Attardati, Lavinium, Lina Charles SM. Problemi per Live, Oc Clodelet. Allora in vantaggio si ritrova il numero 1, Laurel di Poggio. Seconda posizione, prende posto Leida. Poi, Lauro del Ronco, a largo il numero 3, Leonardo Hans. 32.2.400, muove Leonardo Hans all'esterno. Va su Laurel di Poggio. Terza posizione, rimane Leida. Laurel, che replica Leonardo. Questi tre, bene avanti al resto della compagnia. Con Laurel di Poggio, Leida. Leonardo Hans scoperto all'esterno. Poi, ad inseguire, Lauro del Ronco. Che precede Lume e Lune. E Lichus Rivarco. Davanti alle tribune. Con i cavalli che passano metà corsa in 1.18.8 complessivi. Insiste Leonardo Hans all'argo. Laurel di Poggio non è assolutamente intenzionato a mandare. In terza posizione rimane Leida a precedere. Lauro del Ronco all'argo Lume e Lune. La cui scia è presa da Lichus Rivarco. Retta opposta Laurel di Poggio. Leonardo Leida. Questo lo schema. Con una frazione in 14.9. Laurel in vantaggio. Leida ha un po' mollato la presa. Leonardo Hans rimane in scia. Laurel di Poggio. Dal gruppo si fa fatica ad intervenire. Con i cavalli che vanno a affrontare la piegata finale. In vantaggio Laurel di Poggio nei confronti di Leonardo. Poi Leida. E Liendo. Si entra in dirittura di arrivo. In chiaro vantaggio Laurel di Poggio nei confronti di Leonardo. Che è attaccato da Lieida e all'argo anche da Liendo. Laurel che saluta la compagnia e viene a vincere. Finisce bene e all'argo il numero 8 Liendo. Che è secondo. Terzo il 5 è Leida.